Presso il rock, lungo l'antica salita che porta al castello, inaugurata nel pomeriggio di domenica 8 aprile, l'installazione dal titolo Invisibile, realizzata dall'artista Enrico Minguzzi. Una grande soddisfazione oggi poter inaugurare questa installazione di Enrico Minguzzi, il frutto della collaborazione tra Area Creativa 42, l'artista e la città di Valperga. L'installazione è stata progettata durante la residenza di Enrico Minguzzi a Casatoesca nel mese di maggio e ci sono voluti diversi mesi per poterla allestire perché il luogo che la ospita è un luogo complesso dal punto di vista degli accessi e perché è stato necessario attendere le autorizzazioni degli enti preposti, enti paesaggistici, dei beni archeologici. Oggi siamo felici che gli enti si siano espressi favorevolmente e che la scultura oggi sia qua. Speriamo che a breve i bambini di Valperga e non solo, anche gli altri bambini che vengono in gita, passano per andare verso Belmonte, possano ritrovare la scultura e ritrovare il lavoro dell'artista con il quale si erano interfacciati durante la sua residenza in una serie di attività di laboratorio che Enrico Minguzzi ha chiamato Giochi di Luce. I Giochi di Luce sono stati un momento di attività e di avvicinamento all'arte contemporanea che credo sia stato entusiasmante perché ne abbiamo avuto poi dopo altre richieste ed ecco che allora i bambini venendo su, vedendo la scultura, possono ricollegare quello che era già stato presentato del lavoro di Enrico e lo vedono qui vicino, lo possono anche toccare, vedono l'opera presente nel territorio che gli appartiene. Quest'opera è nata circa un anno fa a seguito del periodo di residenza che ho fatto presso Area Creativa 42 dove in quel momento mi sono posto l'interrogativo riguardo a che cos'altro potrei fare oltre al mio lavoro principale che è quello pittorico visto che c'era la disponibilità del sindaco di Valperga ho approfittato di questa occasione per esportare parte del mio lavoro e integrarlo all'interno del paesaggio stesso. Il decorso della costruzione dell'opera è stato abbastanza lungo e laborioso, infatti ha preso quasi un anno in totale però sono molto felice che finalmente sia stato modo di inaugurarla e mi auguro che possa essere uno stimolo in un qualche modo o anche solo una curiosità per le persone che passano, che transitano, che siano più o meno interessate all'arte per avere la possibilità di incuriosirsi se non altro. Infatti non credo che sia mio dovere dare nessun genere di spiegazione riguardo al significato dell'opera piuttosto penso che già il fatto di riuscire a incuriosire, di muovere un interrogativo nelle persone possa essere una piccola vittoria per me e per il mio scopo. Grazie